C'è il tiragno! C'è il tiragno! Chiesi sul proletta d'uomo e cosa c'è? Che è il sole del mio piede? E con se basta! E con se basta! E con se basta! Lo sole del mio piede? E con se basta! E con se basta! Pie Только un什, sì 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 sé! Me riepci hai徒乎 di olabilir! Noi, no 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 a Pallarote, chiesse che prugnare a Pallarote. Pallarote, chiesse che prugnare a Pallarote, chiesse che tira! Luca recupero! 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 Luca avere molto segni! Luca recupero! Luca preparato! Luca recupero! con fresca letto e con percussioni a ballare a gente in ogni occasione ma la stiamo in una rivista oggi tutto è un miei fratellino la nostra monta dei diamanti lo nostro futuro Daniele Berrino modestamente parlando parlo di quell'uomo a sinistra e in fondo pieno di capelli lo vedete che mia è un gran purtello la zampogna è l'uso sciuvente Claudio Ciavesco è mannulino lo suo sonno è assai divino ma lo cuore di la gente il tuo sempre arriva come esce un cianpaolo ruzio di Santa Teresa di Riva l'umiditi proprio accanto a mia ma si sente della via la sua voce è assai bucente un grande artista praticamente di San Catanto porta la paniera in due di San Catanzi di San Catanzi di San Catanzi come la mia su modesti ma importanti su noi belli musicanti tutto tutto mondo anno fu riano dai naro a capodanno uno più uno li ringraziamo per Paolo Alberghini che a culo basso funge e stringe con le mani ad Alessio Canastro che a culo e mani e a culo e peri fa invece uto misteri a mimì sterrantino che a culo a sua voce in ciansogni unico nuci ci vuole ascoltare signor in che tirragno la pittizza sommisca e basta con la ducizza e la sua voce quando canta tutta la gente canta la ringraziamo per la sua presenza il suo canto non potremo fare il senso è stato in ciansogno la sua voce l'esercito è stato in ciansogno è stato in ciansogno e la sua voce è stato in ciansogno a cui si è in ciansogno vediamo se a qualcuno gli viene qualcosa per recupero Luca non ci viene niente a nessuno a te ti viene qualcosa? perché quando suona per recupero Luca perché quando suona sembra un nobile sembra un duca ascoltate signore ascoltate ambure che farra abbattente farra anzane e mandolini ma come fa amicireggia a destra ultimano sempre qui e tu secondo me è nato per fare l'artista uomo di spettacolo un gran professionista ma prima che mi lo scordo ora ve lo dico ma lì la volontà faccia ma che fa parlando figo si dice che sia bello e a tutti ci piace come è su Davide Urso con un muro di ace a pranzi prima del club io volevo ringraziare il nostro fonico ehi Santino c'era l'arrivo del fonico? non la può dire Giorgio Italisano io l'ho capito l'arrivo però va bene non la posso dire noi non te lo auguriamo mai va bene ok però ti ringraziamo è arrivato il momento il momento dell'ultimo perché gli ultimi saranno i primi ma a capo energia che tri travolge tri travolge la sua passione ti coinvolge ma se si arrabbia è un fiume in piena mentre sta dritto sulla schiena ma se lo vivi tutti i giorni se aspetti che in lui la pace torni esce fuori il bimbo buono accompagnato dal tamburo con il suo battito e il suo suono Santino Merrino con compleanno mia sorella auguri grazie ai baby band grazie al nuovo gruppo di giardini a tutti gli amici di tutti ci vogliamo fare un grande grazie a Giuseppe Merrino è un sacco il capo di tutto Nino Merrino presto a Giuseppe Merrino a Giuseppe Merrino buonanotte buonanotte grazie a tutti grazie a tutti buonanotte ricordatevi che c'è il disco perché il biglietto oggi è a metà prezzo e noi vi chiamo a Gira Debba grazie